Si è sottoposto a colloqui e test e adesso si potrebbe andare verso una perizia psichiatrica. Federico Ferrini, il 37enne casentinese che ha confessato di aver ucciso Maria Venasio de Sousa all'interno dell'appartamento di Via della Robbia, ha già infatti ricevuto in carcere due visite di uno specialista, Luca Grisolini, il consulente della difesa, esperto in scienze forensi. E proprio da quanto emerso nel corso dei colloqui potrebbero esserci gli estremi per chiedere una perizia, una strada attualmente valutata dal legale dell'uomo Jonathan Giannini. Potrebbero essere svolti anche ulteriori accertamenti medici a partire dalle semplici analisi del sangue per appurare se sia presente anche qualche patologia che possa avere in qualche modo influenzato il comportamento del 36enne. Intanto proseguono le indagini coordinate dal PM Chiara Pistolesi e portate avanti dalla squadra mobile della Questura di Arezzo al vaglio degli inquirenti conti correnti di Ferrini per far così chiarezza sul movente. L'uomo infatti ha dichiarato prima negli uffici della Questura e poi di fronte al giudice di aver ucciso Maria Venasio de Sousa perché la donna gli chiedeva soldi per non rivelare la loro frequentazione, circa 200.000 euro. Resta infine l'attesa anche per i risultati degli accertamenti condotti sulle tracce biologiche raccolte dalla scientifica nell'appartamento della donna e nell'auto di Ferrini, esiti che dovrebbero dare una conferma scientifica a quanto raccontato dal 36enne e poi ricostruito dagli inquirenti.